Sì, noi oggi siamo qui a dire alla politica stiamo rompendo gli argini, stiamo rompendo gli argini dentro cui si vorrebbe che noi rimanessimo nel chiuso delle nostre comunità ferite e colpite da Frane e da Lulioni. Vorrei ricordare che negli ultimi 50 anni in Italia ci sono stati circa 4.000 morti da Frane e da Lulioni, la situazione è intollerabile. La consideriamo indegna di un paese civile, consideriamo indegno il fatto che non si riesca a dare risposte. Noi siamo qui a portare delle proposte precise che subito dopo consegneremo agli parlamentari che incontreremo. Ci siamo riuniti ieri in un atto fondativo, oltre 20 comitati di alluvionati di tutta Italia, associazioni nazionali e locali che si occupano di dissesto idrogeologico. Il nostro obiettivo è semplice, riportare in basso i luoghi della decisione, riportarlo lì dove le comunità che conoscono i territori e dei problemi sono in condizioni e sanno quali sono i problemi da affrontare. Basta con la politica degli annunci e dello scaricabarile. Siamo qui simbolicamente per dire che stiamo rompendo gli argini con l'obiettivo di invadere la politica e la società. Oggi simbolicamente consegniamo ai parlamentari, lo facciamo con il senatore Campanella, ma simbolicamente con tutti i parlamentari e la classe dirigente di questo paese, gli stiamo consegnando il kit di sopravvivenza di cui ormai sono dotate tutte le famiglie che stiano in Veneto o in Sicilia delle aree a rischio idrogeologico, gli stivali per il fango, il badile con cui spalare, il secchio con cui raccogliere il fango, fango che poi si secca regolarmente e lascia nei territori i problemi dello sciacallaggio, della solitudine e soprattutto la frustrazione di aver avuto molte pacche sulla spalla quando i riflettori erano accesi per poi verificare che puntualmente tutte quante le promesse sono state disilluse. Noi entreremo dentro il Senato per dire ci siamo, siamo qui, ci siamo materializzati da oggi, non potrete fare finta che noi non esistiamo e degli alluvionati non si potrà parlare in astratto come un fenomeno sociologico, noi siamo persone in carne ed ossa, le famiglie hanno problemi precisi, le attività economiche stanno soccombendo, c'è un paese che chiede delle cose precise e noi presenteremo le nostre proposte e le nostre speranze. Dopodiché per ultimo consegneremo alla politica dei sacchetti di sabbia, questi vengono dal sud dell'Italia ma potrebbero venire da qualsiasi altra zona dell'Italia, con i sacchetti di sabbia le comunità tentano di arginare i danni delle alluvioni, noi diciamo simbolicamente alla politica la nostra incazzatura è proprio tanta, le comunità non ce la fanno più, pretendiamo le risposte, se le risposte non le avremo non ci saranno sacchetti di sabbia che basteranno a contenere l'indegnazione e la rabbia della nostra gente.